Ciao ragazzi, allora si sta avvicinando la partita Cosenza-Bari, la trasferta del Bari che va a Cosenza. Mi pare che siano moltissimi anni che non andiamo a Cosenza dal 2002, quindi sono 20 anni che non andiamo a Cosenza. Era pur arrivato il momento di tornarci a Cosenza, sono 20 anni che non ci andiamo e è tenuto di andarci. Che dire di questo Cosenza? Partiamo dal Cosenza, allenato da Dionigi, Dionigi bello arrabbiato lo vedo, bello, come dire, focalizzato sul suo lavoro, concentrato, determinato ad ottenere risultati, ad andare avanti, è molto convinto. Queste conferenze stampa in cui è super assertivo, dice che ha la squadra in costruzione, dice che è una squadra nuova, Dionigi ha giocato nel Bari una stagione credo 2004-2005, quindi anche una conoscenza del Bari. Il suo allenatore in seconda è proprio un suo ex collega che giocava con lui nel Bari. E quindi è un allenatore che già vive questa sfida con molta enfasi perché si lamenta che il Cosenza nelle prime quattro giornate ha fatto tre trasferte, quindi è stato a quanto pare penalizzato dal calendario, come se poi non debba giocare più partite in casa, più in là. Quindi sta facendo un po' di prepartita, diciamo, disturbante, ecco, diciamo. Che dire, il Bari, il Cosenza, no, continuiamo con il Cosenza, scusatemi. Cosenza è una squadra che in quattro partite ha fatto sette punti, quindi un punto più del Bari. Non male, non male direi perché ha vinto fuori casa a Benevento, ex di Serie A, ha pareggiato l'ultima con la Ternana, fuori casa, poi ha vinto in casa col Modena e ha perso a Parma 1-0. Dei risultati che secondo me sono abbordabili, non hanno incontrato queste grandi squadre. È un po' tutta scena di Onigi, parliamoci chiaro. È un po' tutta scena, un po' tutta tattica, no? Un po' tutta scena, questi sette punti. Il Bari, il Bari, fondamentalmente, dopo il brutto pareggio in casa, 2-2 con la SPAL, non è che è obbligato a vincere, non è obbligato a vincere, ma è obbligato a non perdere, perché il Cosenza farà di tutto per vincere. Cosenza farà di tutto per vincere. È una formazione che è illusoriamente offensiva, un 3-5-2, e secondo me giocherà di tutto per vincere. Il Bari non deve perdere la sua identità, non deve perdere le sue caratteristiche di squadra, senza mai snaturarsi con nessun avversario. Poi si vedrà, poi si vedrà, come andrà avanti questo campionato di Serie B, che è sempre molto duro, è sempre molto duro. L'allenatore Migliani dovrebbe presentare il classico 4-3-1-2 con Caprile in porta, Puccino di Cesare, Terranova, Ricci, i tre di centrocampo collaudati ormai, che per noi sono fondamentali, cioè Ricci, Maita, Maiello, che sono i tre fondamentali per noi, no scusatemi, Maita, Maiello, Foloruscio, i tre di centrocampo, e la coppia d'attacco solita, Antenucci, che dirà, e Bellomo come play, Bellomo dietro le punte. Questa è una probabile formazione, poi bisogna vedere se sarà questa, anche quella di sabato alle 14. Che dire, la scelta di Bellomo, ho visto che in conferenza stampa qualcuno dice, ma come mai non metti botta, forse Bellomo lo convince di più. Un allenatore, gli allenatori bravi, come Mignani, hanno bisogno, sono un po' conservativi, hanno bisogno di essere convinti, hanno bisogno di certezze che non esistono, però hanno bisogno di confidenza, di essere convinti, di confidence, you know? Bellomo, certo, ha sbagliato quella palla contro la spalla, però era su tutte le palle. Nel secondo tempo Bellomo era su ogni palla, quindi partecipava all'azione in maniera incredibile, botta, io l'ho visto contro il Palermo, se la tira un po', non arretra molto, certo poi nella costruzione è bravo, diciamo un po' più di qualità, un po' meno quantità, invece Bellomo un po' più generoso, sembra come giocatore. Questa è una valutazione così, fatta da due partite viste, però se il mister ha detto in conferenza stampa, io faccio delle scelte, Bellomo gioca, perché è una scelta tecnica, molto semplice. Certo, poi è arrivato su quella palla contro la spalla, è arrivato stanco, perché non è che uno, un giocatore di questo livello, che siamo insieme in Bino e una buona squadra, a porta libera, spara la palla in curva, cioè non è che si può biasimare più di tanto, di loro li fanno tutti, li fanno anche i campioni che giocano in Champions League a porta libera, senza fare nomi, no? Anche le squadre blasonate. Concludo con la classifica, una classifica molto corta, sarà così fino alla fine in Serie B, un campionato dove vincere è sempre un'impresa, parola di Mignani, parole sante di Mignani. Abbiamo tante squadre, Regina, Frosinone, Brescia, Genoa, anche lo stesso Benevento, che ha perso contro il Cosenza, ricordiamo, Cagliari, Parma, abbiamo tante squadre lassù, che mirano alla Serie B, alla Serie A, scusatemi. Io fino adesso non ho visto una squadra nettamente più forte del Bari, ho da dire no, questa è di un'altra categoria, anche se siamo solo all'inizio. Questo è un prepartita, fate like se siete interessati, ditemi la vostra soprattutto, se condividete o anche se non condividete, così iniziamo a prepararci per questa partita, che come tutte è fondamentale, sarà fondamentale per il Bari non perdere, non possiamo perdere a Cosenza. Anche un punto va bene, è brutto ragionare così, non si deve ragionare così, si deve ragionare sempre a vincere, attaccare, attacchiamo, sarà importante la prestazione? Sì, la prestazione è la più importante, però vediamo come va, però abbiamo lasciato già due punti in casa con la SPAL, quindi c'è un problema anche che andiamo spesso sotto, quindi capiamo un attimo come reagire, forza Bari sempre e ci aggiorniamo per la partita. Ciao!